Pippo Zani, 2-0 in casa del San Massi, una bella vittoria per voi, tu grande protagonista, diversi interventi decisivi, quello più importante diciamo il rigore, sia perché arrivava a metà secondo tempo e poteva riaprire la gara. Prestazioni singole in questa squadra, dobbiamo sfoderarle ogni settimana se vogliamo raggiungere la salvezza il primo possibile. Sono contento perché sto lavorando tanto, sono in un ambiente speciale, sereno, dove mi hanno dato tanta tranquillità allenandomi bene e essendo sereno escono anche queste prestazioni, però il merito è dell'intera squadra. Col primo tempo di sofferenza il San Massi ha giocato bene, poi nell'inizio di ripresa quell'1-2 che vi ha dato tranquillità. Cosa è mancato per tenere la gara diciamo più congelata e con meno sofferenza nel finale? Loro sono bravi, loro ci hanno attaccato da subito, volevano fare risultato e nel primo tempo abbiamo avuto qualche problemino anche se abbiamo avuto le nostre occasioni. Mentre questa è una squadra pazza, nel senso che ha delle impennate eccezionali, delle giocate meravigliose, provate in settimana col mister e quando ci escono arriviamo sempre davanti alla porta. Primo tempo è stato bravo Fortuna, secondo tempo sono stati bravi i nostri, abbiamo chiuso la partita dopo 5 minuti, quindi poi ci siamo messi bene dietro, loro hanno premuto ancora sull'acceleratore ma non sono riusciti a fare gol quindi ci aspettavamo questa vehemenza del San Massi e noi siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto per colpirli. Con il fatto che il San Massi non abbia fatto gol, ricordiamo appunto il merito tuo, qual è stata la parata più difficile fra quelle che hai fatto specie nella ripresa? Non lo so, per me le parate più difficili sono quelle più semplici, rigore molto soggettivo. Magari allora al primo tempo il colpo di testa che hai rimbattato alla palla? Assolutamente sì, per me la più difficile è stata quella, sì. Senti invece da dietro come hai visto il gran gol di PIN? Schema, schema provato, riprovato. Lo schema si prova perché la palla arrivi lì, poi che consigli? No, i piedi sono quelli che sono, invece no, faccimi scherzi Marco, ce l'ha questo colpo ed è uscito ma era da un po' che lo provavamo. Siamo contenti perché poi escono anche queste cose qua, ma è proprio, ci tengo a sottolinearlo, l'ambiente sereno che c'è intorno a noi che ci fa uscire anche queste giocate. Ecco, il Taloro parla di salvezza, 19 punti, però sta dimostrando come sulla carta si prevedeva una delle migliori squadre del campionato. Io ripeto ogni domenica, se noi abbassiamo la guardia le perdiamo tutte le partite, se noi teniamo alta la concentrazione rischiamo di fare bene ogni partita. Quando saremo a 38 punti vedremo un attimino, ci chiuderemo dentro lo spogliatoio, ci faremo un pensierino per qualcos'altro. Però noi dobbiamo essere umili, continuare così, seguire il mister e camminare dritti. Quei numeri dicono che siete imbattuti, che siete la miglior difesa, quindi tutto vi accompagna per il meglio. Sì, siamo anche il miglior attacco, ci tengo a precisarlo. Siamo comunque una squadra che attacca. Un vecchio allenatore diceva che la miglior difesa è l'attacco, ed è vero. La squadra lavora tutta in fase offensiva e tutta in fase difensiva, quello che vuole il mister. Le cose ci stanno andando bene, siamo contenti, però dobbiamo stare in campana sempre perché l'agguatto è sempre dietro l'angolo. Pippo, parliamo di te. Dopo i tanti anni ad Alghero, Gavoi era la soluzione migliore per ritrovare entusiasmo e fare un campionato di questi livelli? Penso l'unica. L'unica perché avevo già pronta la valigia e sarei rientrato a Bergamo a giocare in un'altra società. Mi hanno chiamato, mi hanno corteggiato e, ripeto, in 30 secondi ho deciso di andare lì perché ho visto le persone. A Gavoi esiste ancora la stretta di mano e penso che nello sport sia andata scomparendo questa bella cosa. Sono contento, fiero e orgoglioso di indossare questa maglia adesso perché dopo l'ultimo anno, dove mi stavo prendendo un esaurimento e dove, credetemi, abbiamo fatto con la squadra dei sacrifici disumani, oggi finalmente me la godo un pochettino con più serenità e me la godo. Dico, è chiaro che ciò che hai fatto ad Alghero non è stato dimenticato. Quanto ti ha fatto piacere quando sei tornato al Mariotti con i tuoi tifosi che ti hanno premiato? Li ringrazio perché sono stati eccezionali, non dubitavo. Mi porterò dietro nel mio bagaglio professionale questa esperienza bellissima di Alghero cercando di cancellare le cose brutte dell'ultimo anno e cercando di ricordarmi sempre l'umiltà che abbiamo avuto comunque a salvare il salvabile dove veramente forse nessuno ci credeva più. Quindi mi porto dietro la sportività degli algheresi. Quello che mi hanno dato non me lo dimenticherò mai. Avevo lasciato lì tantissimi amici. Ad Alghero si è chiuso il cerchio. Adesso si comincia ad andare a camminare dritto col Taloro e sono contento di questo. Col Taloro c'è un folto gruppo di giocatori e tecnici che viaggiano da Sassari. Quanto è importante fare questo viaggio tutti assieme? È lì che si gettano le basi per un grande gruppo? Mi dispiace che si parli sempre solo del Pulmino. Ci sono anche i locali che sono eccezionali. Prima si è il capitano, Mele, Pinna, Corona, Sanna e soprattutto i ragazzi. Il mister è tre anni che li sta curando, ragazzi che ci stanno dando tantissime soddisfazioni e sono il futuro del Taloro. Noi, Pulmino, essendo quasi sempre insieme, noi ci diciamo sempre che siamo più insieme noi che non con le nostre famiglie. È normale che fa amalgama, fa bene questo al gruppo. Però non giochiamo in nove. Il nostro gruppo è composto da 26 persone, 25 persone, quindi ognuno ha il suo merito. e questa disponibilità di entrambi i cosiddetti gruppi di Sassari e di Gavoi fanno sì che le cose stiano andando bene. Grazie Pippo, complimenti per la gara di oggi, la tua in particolare, e per il proseguo del campionato. Grazie, un saluto a tutti voi, alla tua trasmissione, ai tuoi servizi che dai sempre sul Diario Sportivo, che tutti noi seguiamo con felicità, perché qualcuno pensa anche a un campionato che resta bello da vivere e da giocare. Grazie Pippo, complimenti ancora.